Assù c'è un signore che vuole lanciarsi Stanno iniziando a cadere le corde Sta salendo il signore per buttarsi È un signore pazzo che fa una pazzia Che paura Intanto alle mie spalle ci sono delle persone che parlano francese Tranquillo, ho registrato io E papà comunque ti ha avvisata È incredibile, io non avrei così tanto coraggio Ma come? Allora, montrano i tuoi abdo Ma io non ho fatto questo Non sono russina È pazzo Guarda come fa a risalire però Non c'è, non c'è un salto Sì, più bello Che coraggio che deve Bravo 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 Wuhuuu Ancora due due?